Ciao, sono Gianluigi Bonanomi, mi occupo di comunicazione digitale, in particolare corsi e consulenze su LinkedIn, che è il mio social network preferito e che qualcuno non ha ancora forse compreso. Io vado in giro a fare corsi LinkedIn praticamente da, credo, sei o sette anni e in qualche modo ho raccolto tutte le domande che mi vengono fatte, anche in modo un po' scellerato o comunque un po' prevenuto su questo strumento che appunto piace a molti ma altri non hanno ancora ben inquadrato. E allora ho voluto raccogliere le cinque domande sbagliate che mi hanno fatto su LinkedIn. La prima domanda è ma LinkedIn non serve solo per cercarsi un lavoro? E allora io gli rispondo guarda forse l'hai confuso con Monster o InfoJob, se usi LinkedIn solo per cercarti un lavoro, chiaramente a meno che tu lo stia davvero cercando, stai usando quello strumento forse al 20-30% delle possibilità. LinkedIn serve prevalentemente per fare secondo me personal branding, quindi per proporre al mercato, agli altri, quello che sai fare, dimostrare che sai risolvere i problemi degli altri, ma anche e soprattutto per networking, quindi per collegarsi ad altri professionisti, generare una rete che è la cosa più intelligente che tu possa fare poi anche per cercarti un lavoro poi in futuro. Quindi no, LinkedIn non serve solo per cercarsi un lavoro, ci mancherebbe altro. La seconda domanda sbagliata che mi fanno è come faccio a vendere su LinkedIn? Ho deciso di dire che io sono un venditore, voglio venire su LinkedIn, voglio cominciare a piazzare polizze o pezzi o abbonamenti. Ecco questa è un'altra domanda molto sbagliata perché non si è compreso lo spirito di LinkedIn e dei social in generale. Quando si parla di social selling non si parla di social commerce. Social selling è creare le condizioni affinché tu risulti autorevole, abbatti le distanze con le persone, crei le relazioni, fai vedere che risolvi i problemi e alla fine sarà lui a venirti a chiedere qualche cosa, ma non sei tu con il registratore di cassa su LinkedIn perché quello non funziona. Tutte le volte che mi chiedono il collegamento e un minuto dopo provano a piazzarmi una polizia io li rimbalzo bellamente perché è veramente molto fastidioso. La terza domanda da non fare su LinkedIn è ma serve solo per agganciare i colleghi? Cioè serve soltanto per appunto farsi la rete? No, è una cosa molto importante ma non serve solo per quello, molti lo usano solo per quello, invece tu devi usare LinkedIn non solo come un social network ma anche come social media, dovrei dire social medium, perché devi pubblicare, perché devi esserci, perché chi non condivide non esiste, c'è addirittura un libro negli Stati Uniti era uscito qualche anno fa che era Share or Die, condividi o muori. Quindi no, non serve soltanto per fare rete, la rete serve poi perché comunque gli devi dare qualcosa per farti notare, per farti vedere, per farti apprezzare, per aiutare gli altri. Dai valore, dai valore con i contenuti soprattutto. La quarta domanda, i contenuti su LinkedIn non li legge nessuno. Perché dovrei perdere del tempo visto che la gente è lì a cercarsi un lavoro come abbiamo detto prima? Questa è una bagianata, LinkedIn è diventata una piattaforma di discovery dei contenuti, cosa talmente vera che addirittura c'è una redazione giornalistica, quantomeno con un paio di professionisti che sfornano notizie tutti i giorni, ma soprattutto un sacco di gente adesso sta cercando contenuti, anche perché si è stufata di altre piattaforme. Vedi Facebook pieno di gattini e fake news, qui LinkedIn si sta un po' sporcando da questo punto di vista perché ci sono 14 milioni di professionisti sopra e non tutti hanno compreso il tipo di ambiente, però è altrettanto vero che c'è un sacco di cose interessanti da seguire, da condividere, da commentare e quindi la parte di contenuto secondo me è diventata molto più strategica ultimamente nell'ecosistema LinkedIn. L'ultima domanda da non fare mai su LinkedIn è dove trovo il tempo di gestire LinkedIn? Dalle mie parti si dice, uè, gode l'aura, si dice in Brianza, cioè io devo lavorare, non ho tempo di stare dietro ai social e queste stupidaggini qui, magari confondendo tra l'altro LinkedIn con TikTok o altre cose. LinkedIn è un mezzo di comunicazione che è molto importante perché appunto è il social professionale per eccellenza, però uno studio di LinkedIn di qualche tempo fa dice che una volta sistemato il profilo e a meno che tu non faccia il venditore social seller su, bastano 9 minuti al giorno. Che cosa fare in quei 9 minuti? Si possono, per esempio, accettare le richieste di amicizia, fare delle richieste di collegamento, pubblicare un post, vedere quello che hanno scritto gli altri, fare un commentino e magari guardare i messaggi. E questo può essere fatto proficuamente, ripeto, in soli 9 minuti. Quindi non abbiamo scuse, quando la gente mi dice non ho tempo per LinkedIn, io rispondo forse non hai LinkedIn come priorità, perché probabilmente 9 minuti al giorno a guardare le notizie di gazzetta.it invece le trovi. Invece penso che sia molto più proficuo dal punto di vista professionale investire su questo strumento. A questo punto queste 5 domande, se mi incontrate per favore non me le fate più e io vi rimando a tutti gli altri video e tutti gli altri miei contenuti perché su LinkedIn scrivo parecchio. A questo punto vi saluto e buon LinkedIn in 9 minuti, a te, ciao!